Da questa stanza sono transitati e mi sono goduto negli ultimi anni diversi componenti hi-fi. Ma questa sala non l'abbiamo tirata su solo per l'audio a due canali, esclusivamente per l'audio a due canali intendo. Io ed Elena infatti ci siamo dati da fare anche per creare un ambiente ideale per goderci i nostri film e le nostre serie tv preferite. E dopo tutta questa fatica direi che siamo pronti finalmente anche per la review di componenti legati al mondo home theater. E oggi beh partiamo alla grande con il nuovissimo sinto amplificatore multicanale Marans Cinema 40. Da pochissimo abbiamo completato finalmente il nostro setup definitivo multicanale con un 7.2.2 e direi che è venuto abbastanza bene. Se siete interessati a capire come si è composto e come lo abbia strutturato in questa stanza vi lascio un link qui sopra in cui ve lo descrivo nel dettaglio. Quindi con un sistema a 7 canali surround completato da due elementi a soffitto per le nuovissime codifiche ad oggetti siamo pronti per mettere alla prova il nuovissimo Cinema 40. Il Cinema 40 è il più importante nella nuovissima e bellissima tra l'altro linea di sinti amplificatori multicanali della casa giapponese. Il più grande dicevo perché la nuova serie cinema multicanale prevede anche il 70s che è la versione slim a 7.2 canali e il Cinema 60 e 50 a canali e potenze sempre crescenti. Cinema 40 è il modello di punta con la possibilità di pilotare fino a 9 canali indipendenti e 4 subwoofer. Questi 9 canali sono configurabili in base alla disposizione dei vostri diffusori e alle vostre esigenze compresa da quella di gestire una seconda zona. Differisce anche dai fratellini minori per alcune scelte costruttive interne volte a massimizzare e ottimizzare le prestazioni soniche. Direi che Marans non abbia bisogno di grandissime presentazioni. È un marchio storico e importantissimo sia in campo hi-fi tradizionale che audio video. Da poco abbiamo avuto la possibilità di ascoltare e presentarvi il fantastico Model 40N per cui vi lascio un link qui sopra alla review. Andatelo a vedere, è fantastico con l'amplificatore. Con quel modello il Cinema 40, così come tutta la nuova serie Cinema di Marans, condivide il design. Accattivante, molto accattivante. Diciamo un fil rouge che unisce tutti i nuovi prodotti della casa giapponese. Prima di concentrarci sul prodotto vi chiedo di mettere un bel pollicione su a questo video ed iscrivervi al canale. Aiutateci a crescere, abbiamo bisogno del vostro aiuto e facciamo diventare Audiofilando uno dei riferimenti per quanto riguarda il mondo hi-fi e audio video. Facciamo crescere insieme questa community. Ma adesso torniamo a noi e tiriamolo fuori dalla scatola anche perché sono curiosissimo di collegarlo al nostro impianto multicanale. Cinema 40, il più grande e performante nella nuovissima linea di sinto amplificatori integrati multicanale della casa giapponese. Imballo tutto sommato compatto in considerazione del fatto che dentro c'è un bel ciccione. Lo troviamo raffigurato, stilizzato sulla parte laterale dell'imballo. Sopra invece troviamo le 8.400.000 funzioni che è in grado di fare questo Cinema 40. Le approfondiremo sicuramente dopo ma vi voglio far notare le principali, vale a dire le compatibilità Dolby Atmos, DTS-X e Auro 3D, vale a dire i nuovissimi standard ad oggetti per quanto riguarda l'audio multicanale. La compatibilità con il formato 8K e un sacco di altre cose. Che dito l'apriamo? Ma sì. Troviamo subito la scatola degli accessori che ci togliamo il pensiero e apriamo subito. All'interno il telecomando molto molto carino, molto bello e con lo stesso layout dei prodotti a due canali che abbiamo già recensito qui su Audiofilando. Doppia l'antenna, Bluetooth e Wi-Fi, le batterie per il telecomando, manualistica, quindi la Quick Start Guide in italiano anche. Sì, la vedete qui. Eccola qui. Troviamo poi una sorta di brochure che spiega le caratteristiche e potenzialità del software EOS integrato all'interno di questo synth amplificatore che permette di utilizzare, ad accedere a tutti i servizi di streaming musicale. Andiamo a vedere cosa ci sia ancora qua sotto. Un sacco di cose. Ah, ottimi, molto utili, dei segni a cavo per i nostri cavi perché sono veramente tanti quelli che possiamo connettere a un sistema multicanale. È molto carina l'idea di mettere dei segni a cavo per identificarli. Abbiamo anche qui, e lo utilizzerò dopo in realtà, il supporto per il microfono. Carino, sembra un origami da assemblare. Ci sono le istruzioni indicate sia qui che di assemblaggio stile Ikea, tanto per intenderci su questo foglietto, che servirà per supportare quello che forse l'ho intravisto prima e il microfono per la calibrazione automatica e quindi la correzione automatica della risposta del nostro sistema al nostro ambiente. Andiamo a vederlo. Eccolo qua, il microfono Audi 6. Audi 6 è il software di calibrazione automatica tipica dei prodotti Denon e Marans. Quindi microfono che andremo a collegare al synth amplificatore durante la procedura di calibrazione automatica e verremo guidati, presumo, on screen nei passi da seguire per ottimizzare la risposta del nostro synth amplificatore. Cos'altro abbiamo qui? Il cavo con spina tedesca, già l'avevamo visto negli altri prodotti Marans recensiti, senza la connessione di terra. Questo significa che lo stadio di alimentazione è completamente svincolato dalla terra del nostro impianto. Beh, direi che per tirarlo fuori ed evitare brutte figure faccio un po' di buio. Cucù non c'è più. Come vedete l'imballo interno è composto da quattro semi gusci che lo tengono saldamente in posizione e adesso dopo averlo estratto ve lo faccio vedere. Eccolo qua! Carino il logo, il bollino Marans adesivo che tiene chiuso, avvolto come in una coperta di semipanno morbido. Lo andiamo ad aprire. Eccolo qua! Nella sua bellissima finitura silver. Ok, adesso direi che siamo pronti a dare uno sguardo più da vicino a questo prodotto. Con particolare interesse ha interfacce tantissime, comandi altrettanti e funzioni infinite. Eccolo qua, il Marans Cinema 40 in tutta la sua imponenza. Presenta ancora i sigilli che tengono chiuso il pannello frontale durante la spedizione, ma li andiamo a togliere subito direi. Li conserverò anche perché purtroppo dovrò restituirlo. Pannello frontale molto lineare, molto semplice e con il design classico di Marans degli ultimi modelli presentati, sia in campo home theater che in campo hi-fi due canali. Quindi con questo doppio pannello su due livelli diversi, quello dietro diciamo bulinato, non liscio, e quello frontale più liscio. Molto molto bello, sicuramente dal punto di vista del design azzeccatissima questa nuova linea di modelli della casa giapponese. Due manopoloni frontali, uno per la regolazione del volume e l'altro per la selezione degli ingressi, e un display, un piccolo display frontale che vedremo acceso dopo. Logo Marans dorato sulla parte, dorato cangiante sulla parte superiore e a lato invece il nome del modello, in questo caso il Cinema 40. Sul contropannello, sul pannello dietro invece, abbiamo pulsantino di accensione e spegnimento e interfaccia verso le nostre cuffie, interfaccia dell'amplificazione per cuffia con jack grande da 6,3 mm. Andiamo ad aprire il pannello frontale per scoprire un secondo display, oltre che ovviamente altri comandi e funzioni disponibili sul pannello frontale per un facile accesso. Abbiamo il pulsantino Pure Direct che è quello che serve per eliminare tutti gli arzigogoli, diciamo digitali, attorno al percorso del segnale e consentirci di godere della musica a due canali nel miglior modo possibile. MDAX invece attiva una sorta di equalizzatore, una funzione che serve a ridare corpo a delle tracce compresse, tracce audio compresse. Io quelle non le uso mai, vi sconsiglio di utilizzarle, ma nel caso mi farete sapere come si comporta questa equalizzazione. Il pulsantino Status permette di ruotare le informazioni che vengono visualizzate sul display centrale, mentre Dimmer consente di regolarne la luminosità. Sotto invece abbiamo quattro pulsanti che servono per gestire le zone audio, le altre zone oltre a quella principale. La zona 2 e la zona 3, entrambe possono essere accese o spente, cioè abilitate e disabilitate, e per ciascuna è possibile selezionare la sorgente da inviare. Centralmente sotto display abbiamo l'ingresso per il microfono di calibrazione, che vedremo operare dopo, e un ingresso USB che è un ingresso USB di tipo A per collegare periferiche di archiviazione e andare ad esempio a prendere la musica direttamente da queste periferiche. Da questo lato invece abbiamo dei comandi che servono per gestire i menu on screen, quelli che vengono visualizzati collegando al Marans il nostro televisore tramite interfaccia HDMI. I pulsanti sono Info, Option e Setup che consentono di visualizzare proprio sul nostro televisore i sottomenu relativi. Sottomenu che possono essere navigati tramite questi quattro cursori al centro. La voce selezionata in quel momento tramite i cursori può essere selezionata col pulsante ENTER e si può ritornare nel menu precedente col pulsante BACK. Tutte opzioni ovviamente disponibili anche col telecomando. Guardando la quantità di connessioni che ci sono su questo lato B sono pervaso da sentimenti contrastanti. Il primo, il più forte, devo dirvi la verità, è quello di voler collegare tutto subito in modo da vedere come si comporta questo Cinema 40 con il nostro impianto home theater. Ho grandi aspettative su questo prodotto. Il secondo sentimento mi porta a mettermi le mani nei capelli che non ho al pensiero che dovrò collegare praticamente tutti questi connettori di potenza ai diversi diffusori che compongono il nostro impianto 7.2.2. Dovrò collegarli tutti tranne due perché io ne utilizzerò nove e questo Cinema 40 ha a disposizione 11 canali in uscita. Nel dettaglio i due frontali, sinistro e destro, il centrale ovviamente, i surround, surround diciamo laterali, i surround posteriori e infine la doppia coppia di connessioni HEIGHT sono chiamate e sono quelle per i diffusori per il Cinema ad oggetti. Io sul soffitto ho solo una coppia di diffusori quindi ne utilizzerò solo una di queste due coppie, la HEIGHT1 e la HEIGHT2 la lascerò scollegata. Questo amplificatore quindi è in grado di gestire un sistema Atmos 7.4 quindi con quattro canali sul soffitto. Torniamo su e troviamo alle estremità i due connettori per le antenne che vado a prendere dalla scatola degli accessori ed avvitare, semplicissimo, sono praticamente tutti uguali, basta ruotare fino alla fine della vite, ruotare fino a quando non ci permette di girarle verso l'alto. Antenne utilizzate per la connessione Bluetooth e Wi-Fi. Nella parte superiore e centrale abbiamo le interfacce HDMI. Da questo lato gli ingressi, abbiamo ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ingressi possibili differenti per collegare praticamente qualunque sorgente vogliate e tre uscite video. La principale è quella centrale 8K, poi abbiamo altre due uscite video per un secondo monitor e per un monitor da gestire nella zona 2. Connessione RJ45 verso la vostra rete domestica e interfaccia digitale classica con due ingressi coassiali e due ingressi ottici Toslink. Gli ottici Toslink sono da utilizzare ad esempio nel caso abbiate un televisore non compatibile con protocollo ARC e quindi l'audio del televisore in ritorno verso il vostro sistema on theater dovrà essere trasmesso tramite cavo ottico. Gli altri ingressi ad esempio possono essere utilizzati per ascoltare sorgenti audio digitali, che ne so, un lettore cd, una sola meccanica di lettura cd. Abbiamo invece da questo lato degli ingressi delle interfacce video di ingresso legacy che ormai non si utilizzano più se non per vecchi dispositivi, magari una videocamera che vogliate collegare ad esempio con l'uscita component al vostro impianto home theater per visualizzare i vostri filmati. Nella parte centrale qua invece abbiamo delle uscite pre. Molto interessante il fatto di poter utilizzare il decodificatore audio video di questo Maran Cinema 40 e reindirizzare le uscite a valle del pre ad un finale di potenza nel caso in cui non abbiate sufficiente birra a disposizione o preferiate utilizzare un finale esterno per il vostro sistema di diffusori. Le uscite pre sono disponibili per tutte e 11 le uscite di cui abbiamo le uscite di potenza. È possibile collegare e gestire direttamente col Cinema 40 fino a 4 subwoofer diversi. Io pensavo di averne già tanti avendone 2 qui possiamo collegarne addirittura 4. Qui invece sono disponibili le uscite pre per la zona 2 e la zona 3. Quelle che sono selezionabili, attivabili e disattivabili come abbiamo visto sul pannello frontale. Sarà quindi possibile collegare un amplificatore di potenza in un altro ambiente e gestirlo direttamente col Maran Cinema 40. Non solo un amplificatore di potenza ovviamente ma anche delle casse attive. Molto più pratico. In questa zona invece abbiamo gli ingressi analogici munitissima anch'essa. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibili ingressi di linea più un ingresso, questo molto importante, un ingresso Fono per collegare direttamente il vostro giradischi. Ingresso Fono chiaramente fornito della connessione di massa. Qui sotto per finire abbiamo delle interfacce tra virgolette di servizio come un RS-232 che era molto utilizzato una volta per comandare a basso livello con un protocollo seriale le funzioni di questo Cinema 40. La parte legata al trigger quindi per collegare, accendere, spegnere eventuali altri dispositivi collegati a questo amplificatore con il suo telecomando, quello offerto in dotazione. Diciamo amplificatore, sinto amplificatore, audio video completissimo sia per quanto riguarda le nuove opzioni che credo utilizzerete sia per quanto riguarda la retrocompatibilità con dispositivi audio video legacy. L'ho collegato all'alimentazione e alla rete domestica e non è che potrò farvi vedere molto ma vi voglio far vedere i display attivi anche perché il grosso delle funzioni è gestibile tramite l'on screen menu. Per poter farvi vedere quelle funzioni ovviamente dovrò collegarlo laggiù al nostro impianto. Lo accendiamo e vediamo cosa combina. Viene subito scritto il logo Marans nel display centrale, simbolo della rosa dei venti Marans e si entra subito dal momento che la prima accensione nel menu di setup assistito. Il display inferiore mi dice che sto sbagliando tutto perché lo sto facendo senza aver collegato la tv quindi bando alle ciance mi tocca lavorare e cablarlo. Bene bene siamo ora pronti a dare uno sguardo dentro a questo sinto amplificatore vale a dire a ciò che si nasconde al suo interno ai suoi numeri. Partiamo subito dalla sezione di amplificazione a nove canali in classe AB. La potenza dichiarata su ciascun canale è di 125 watt su un carico da 8 ohm. Dal punto di vista delle codifiche audio gestibili e ci concentriamo nello specifico sulle codifiche audio video, massima compatibilità col mondo DTS. HD Master, DTS X, Neural X e Virtual X. Stesso discorso per la concorrenza ovvero il mondo Dolby. True HD e naturalmente Atmos. Come da programma e non ci sarebbe da aspettarsi di meno dal momento che questo prodotto è nuovissimo tutte le codifiche audio ad oggetti sono gestite da questo cinema 40. La sezione pre è in grado di gestire queste codifiche su 11.4 canali quindi 4 subwoofer gestibili e collegabili contemporaneamente a questo cinema 40. Come abbiamo visto prima è in grado di gestire fino a 7 ingressi hdmi tutti 8k. La risoluzione massima gestibile in funzione del frame rate quindi della velocità di refresh delle immagini sullo schermo è di 8k a 60 hertz, 4k a 120 hertz. Le codifiche HDR ai dynamic range sono ovviamente tutte gestite compresa l'HDR Plus e il Dolby Vision. Per quanto riguarda la correzione acustica attiva abbiamo integrato di serie il modulo Audi 6 Multi EQ XT32. Correzione acustica attiva che è importantissima specialmente nel mondo audio video. È disponibile opzionale e a pagamento il modulo Dirac, il software Dirac che purtroppo non ho avuto la possibilità di provare. Il modulo Audi 6 mi è sembrato completo e intuitivo. Il software EOS lo rende anche un comodo e pratico streamer musicale compatibile da questo punto di vista praticamente con tutti i formati audio compresi quelli hd. Di questo software EOS ne abbiamo parlato diffusamente per quanto riguarda i componenti Hi-Fi quindi non mi dilungo andatela a vedere se volete approfondire il funzionamento di questo software. Per finire le sue dimensioni di 440 mm x 414 mm di profondità e 185 di altezza che diventano 254 con l'antenna in posizione retta. Il peso è di 15,1 kg. Ok direi che lo abbiamo ribaltato come un calzino e quindi a questo punto siamo pronti per metterlo alla prova. L'installazione non è stata così gravosa. Ho sì dovuto collegare ben nove coppie di cavi che sono tutte quelle che arrivano ai diffusori in questa stanza ma il fatto di avere i connettori tutti sulla stessa linea ne rende particolarmente agevole la connessione. Sto parlando in particolare della connessione dei cavi spelati che è quella che utilizzo io per l'impianto audio video. Questa cosa in realtà non è altrettanto vera se i connettori sono su due livelli diversi soprattutto se bisogna collegare vedendo dall'alto. Tra l'altro ho colto al volo e preso spunto dalla bellissima idea di Marans di mettere le etichette segna cavo adesive all'interno della confezione. Ho approfittato di questa review per etichettare perfettamente tutti i cavi che sarebbero altrimenti un groviglio inestricabile e indistinguibile nel momento in cui dovessi di nuovo scollegarli e ricollegarli. Infatti per tutti i canali posteriori e laterali e a soffitto i cavi entrano dentro il muro e quindi sono indistinguibili una volta che entrano dentro. Comunque alla fine ho collegato i sette canali più i due soffitto, due subwoofer, il lettore blu-ray e il televisore 4k all'uscita principale. Queste operazioni sono per me semplici e banali e le ho fatte tutte a priori prima della prima accensione, anzi della seconda perché la prima accensione l'abbiamo vista prima ed era tutto scollegato. Capisco benissimo però che i collegamenti che per me sono banali e semplici possono non essere così immediati per tutti. E lo capisce benissimo anche la Marans che ha integrato nel proprio software, nel software di installazione, una procedura guidata impeccabile a video. Davvero se la si segue banalmente senza prendere iniziative personali non c'è possibilità di sbagliare. Ho ripreso la procedura di prima installazione e ve la farò vedere ora. Non mi aspettavo tanta cura nei dettagli e lo vedrete anche live perché ci saranno delle mie espressioni di stupore. È la prima volta davvero che mi trovo davanti una procedura guidata di questo tipo, complimenti. Vediamo di cosa si tratta. Come prima operazione viene fatto scegliere il linguaggio, mi dico sempre che devo portare la mia vita verso l'inglese ma sono pigro e scelgo l'italiano. Essenzia ha una configurazione adeguata per riprodurre al meglio audio video. Questo assistente in impostazione ti accompagnerà durante la connessione e la configurazione dei diffusori e dei tuoi componenti al tuo sintoplificatore audio video. Grazie. Sicuramente diffusori ne ho in abbondanza quindi posso andare avanti. In questa schermata viene visualizzata quella che è l'attuale configurazione di default dei diffusori. Non è proprio uguale alla mia, voglio cambiarla e vediamo come fare. Hai più di nove diffusori senza contare i subwoofer? No, nove esatti. Qui vengono spiegate come collegare i singoli diffusori al sintoplificatore, l'ho già fatto. Andiamo alla ciccia. Viene guidato passo passo la connessione dei diffusori dai frontali al centrale. Mi viene chiesto adesso se ho dei diffusori su round. Sì, appena messi, li ho collegati nel posto giusto. Ho anche i diffusori su round per la parte posteriore. Ne ho due. Mi viene detto come collegare anche questi. Adesso si entra nella parte un po' più, diciamo, a discrezione del layout di ciascuno di noi, vale a dire i diffusori atmos. Quanti diffusori alti a soffitto o Dolby Atmos Enable sono presenti? Due. Due diffusori, una coppia. Seleziona l'isposizione dei diffusori alti nella parte frontale della tua stanza. Superiori, anteriori. Li ho già collegati. Hai un subwoofer? Sì. Due. Appena aggiornato questo layout. Seleziona standard per emettere lo stesso suono a bassa frequenza da tutti i subwoofer. O seleziona direzionale per emettere il suono a bassa frequenza dei diffusori a pavimento vicino al subwoofer. No, standard. Collegato. E collegato. Ecco il mio sistema, il mio attuale layout dei diffusori. Andiamo avanti. A questo punto verrà controllato il fatto che io abbia collegato nel modo corretto i diffusori e mettendo un suono di test da ciascun diffusore per vedere se è presente e collegato nel modo corretto. Vado. Impostiamo. Mi viene chiesto di impostare la regolazione del volume del subwoofer al 30%. Lo vado a fare. Fatto. Levetta del volume dei due subwoofer impostato come richiesto. Sì. Sento il suono dal frontale sinistro. Sento il suono dal frontale. Carino il fatto che ci sia una musichetta. Surround. Anche dal frontale destro. Surround destro. Surround posteriore destro. Surround posteriore sinistro. Surround sinistro. Mi sta quasi piacendo questa musichetta. Atmos superiore destro. Sì, è lui. Atmos superiore sinistro. Anche lui è ben presente. Ho collegato tutto giusto. Subwoofer, diciamo, un contrabbasso che suona. Anche l'altro subwoofer. Come abbiamo visto, all'interno dell'imballo è contenuto una specie di origami, una volta composto il quale si ha a disposizione l'asta per il supporto del microfono. Un modo semplice, economico e, perché no, ecologico, per sopperire alla mancanza di un supporto per lo strumento di rilevazione acustica ambientale. A questo punto arriviamo alla ciccia, alla sostanza, vale a dire la calibrazione del sistema di diffusori in questa stanza, sulla base delle richieste di questa stanza. Iniziamo la calibrazione. Abbiamo installato il microfono sul cavalletto, quello che si vede a destra, fornito in dotazione, diciamo che è di cartone ma funzionale. Tiene il microfono ben in posizione e fermo. Ora devo collegare il microfono all'adeguato ingresso frontale del nostro Cinema 40. Il microfono è stato collegato e riconosciuto dal sistema. Adesso posso andare avanti. Uh, le misurazioni del suono sono su più punti. Ben otto diverse posizioni, come potete vedere. La prima è quella del re, quella in cui di solito mi siedo io. E... cominciamo. Ah, chiaramente viene indicato di posizionare il microfono all'altezza del nostro orecchio nel momento in cui siamo in posizione godereccia, vale a dire quella d'ascolto. Dopo averci informato di fare silenzio perché qualunque suono esterno può influenzare la calibrazione, arriviamo a questo punto in cui ci si avverte che verranno emessi dei suoni, una serie di suoni intermittenti per la calibrazione. Partiamo! Viene rilevato che manualmente non ho fatto le cose giuste nell'impostare il livello di volume di uno dei due sub. C'è la regolazione del volume e adesso viene chiesto di allineare il livello del subwoofer con una procedura automatica. Vediamo come funziona. Il primo è regolato. Direi anche il secondo ha meno di oscillazioni. Il primo è regolato. Il primo è regolato. Grazie a tutti Molto bene, direi che la calibrazione nel primo punto d'ascolto è terminata. Adesso la posizione in cui di solito si siede Elena. Sposto il microfono nella posizione indicata. Le misurazioni in questo punto, così come per i punti successivi, verranno ripetute. Al termine dell'ottavo e ultimo step, la misurazione è completata e ci viene chiesto di proseguire per analizzare i dati ottenuti. La funzione Odyssey Dynamic EQ mantiene i bassi, la chiarezza e il suono surround a bassi volumi per guardare i film e la televisione a notte tarda. Mmm, è una cosa che non faccio mai abbassare il volume quando guardo la tv, anche se a notte tarda. Vuoi attivare la funzione Dynamic EQ? No. Ci viene chiesto a questo punto di scollegare il microfono dal sintoplificatore, mentre lui analizza i dati e applica la correzione acustica alla stanza. Analisi completata, microfono scollegato, andiamo avanti. Ci viene a questo punto detto di collegare le antenne, ma l'ho già fatto prima, come vi ricordate. Ci viene richiesto di collegare il nostro sintoplificatore alla rete domestica. Quindi, vediamo, io l'ho cablato, quindi in teoria... No, l'audio di diffusore si sente, quindi presumo che siamo collegati a internet a una stazione di prova del sintoplificatore. Il nome lo lasciamo così, è così bello, Maran Cinema 40. Abilitiamo anche il controllo di rete per eventualmente utilizzare il nostro smartphone o tablet per controllarlo. Attiviamo anche la funzione di aggiornamento automatico delle nuove versioni firmware. È sempre importante lasciare aggiornati i propri dispositivi. Ora dell'Europa centrale più uno e direi che abbiamo quasi finito. L'autoconfigurazione di questo sintoplificatore è molto lunga. Ogni volta che credo di aver finito, in realtà c'è ancora qualcosa da fare. In effetti, ci aiuteremo a collegare il sintoplificatore al tuo televisore. Sono tutte cose che in realtà ho già fatto, ma che tornano molto utili a chi non abbia dimestichezza con i collegamenti per un sintoplificatore audio-video all'interno del proprio sistema. Certamente voglio collegare la connessione ARC per l'audio del mio TV. Ho collegato un Blu-ray player al Blu-ray, ok, all'ingresso Blu-ray. Non sto collegando purtroppo un dispositivo 8K a questo ingresso e direi che a questo punto ho davvero finito. Niente, sono stato tratto in inganno ancora una volta dalla schermata nera. Ho collegato questo dispositivo con l'ingresso HDMI. Mi viene chiesto di accendere il dispositivo. Ok, direi che anche il dispositivo, la periferica che utilizzo per i miei Blu-ray funziona adeguatamente. Viene capito dal sintoplificatore che non è un semplice lettore Blu-ray, ma un Xbox One, quella che è collegata all'ingresso utilizzato per il Blu-ray. Possiamo scegliere di cambiare il nome con Xbox One, ma io voglio lasciare Blu-ray. Non ho nessun altro dispositivo collegato, quindi faccio fatto. Alla fine mi viene chiesta, in rispetto della privacy, se sono d'accordo a raccogliere informazioni anonime sull'uso del sintoplificatore Marans per migliorare il servizio. Ok, direi che sono d'accordo. Mi viene chiesto di scaricare l'app EOS, ma direi che a questo punto siamo andati molto oltre quelli che erano lo scopo di questo video, cioè farvi vedere la calibrazione del sistema. E alla fine, un augurio che mi sento di sposare in pieno, buon divertimento dopo la configurazione completata con successo. Direi che a questo punto sia arrivato il momento di ascoltarlo. Non ha, a mio parere, molto senso proporre una registrazione due canali di un ascolto multicanale. Sarebbe ancora più fuorviante rispetto alla classica registrazione prove d'ascolto che proponiamo qui su Audiofilando. Quindi ho deciso di proporvi un ascolto due canali classico utilizzando come amplificazione questo prodotto audio-video. Ho lasciato i collegamenti e i diffusori lì dove erano e ho semplicemente pigiato il pulsante Pure Direct. In questo modo si utilizza questo sintoplificatore come amplificatore stereofonico puro a due canali. Sistema a due canali che utilizzo ovviamente i canali frontali, che nel mio caso sono delle Sonus Faber Sonetto 2. Prova quindi questa dedicata a tutti coloro che pur privilegiando il mondo home theater nelle proprie spese e nell'allestimento della propria sala giochi, possiamo chiamarla così, vogliono comunque godersi con questo impianto anche un ascolto stereo tradizionale. Soluzione non per forza penalizzante, soprattutto se si ha a che fare con componenti di alto livello come quello di oggi. La convivenza all'interno delle nostre abitazioni, del mondo stereo due canali e del mondo home theater non è sempre semplice. A tal proposito vi propongo qui sopra un video in cui vi do alcune soluzioni, suggerimenti, per far convivere nel modo migliore possibile i due mondi a casa vostra. Andatela a vedere perché qualcuna di queste soluzioni potrebbe essere interessante. Tornando alla prova di oggi, ho utilizzato l'app EOS per andare a pescare direttamente sul nostro NAS i tipici brani, i protagonisti delle nostre prove d'ascolto. Prima di partire, le mie solite raccomandazioni e istruzioni per l'uso per queste prove, sempre importanti per dar loro il giusto significato. Prendetele sempre con le pinze perché è l'unico modo per capire se un sistema audio ci piaccia o meno e ascoltarlo dal vivo con le nostre orecchie. La registrazione è fatta col nostro registratore portatile Zoom H4n Pro in formato WAV 24 bit 96 kHz. Pubblicare prove d'ascolto su YouTube è diventato praticamente impossibile per motivi di copyright. Ecco perché in questo video troverete solo un piccolo, piccolissimo estratto di queste prove d'ascolto. Per chiunque fosse interessato ad approfondire, lascio qui sotto in descrizione il link al canale Telegram di Audiofilando. Lì potrete trovare la registrazione completa di quattro brani di generi diversi. Quindi, senza perdere altro tempo, partiamo con la prova! Ok, a questo punto siamo pronti per parlare delle mie personali impressioni d'ascolto su questo sindaplificatore multicanale. Chiaramente mi concentrerò principalmente sulla sua funzione primaria, vale a dire come componente audio-video. Due parole prima però sono dovute su quello che abbiamo ascoltato insieme. Vale a dire la sua capacità di toglierci qualche sfizio dal punto di vista dell'ascolto musicale classico a due canali. Direi subito che da questo punto di vista si comporta molto bene, resa audio paragonabile a un amplificatore entry-level a due canali di buona qualità. E sto parlando di tutti i parametri classici dell'ascolto stereo. Nulla di sconvolgente ma in grado comunque di regalare emozioni. Buon controllo sulle basse frequenze, ottimo il dettaglio sulle medio-alte e soprattutto una ricostruzione stereofonica di tutto rispetto. Torniamo però a concentrarci sul suo ruolo primario, quello per cui è stato pensato e progettato. Vale a dire amplificazione multicanale di fascia medio-alta, dedicato quindi a un utente home theater esigente ed evoluto. Bene, 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 vengo subito al sodo. Utilizzando un contenuto audio-video degno dal punto di vista sonoro, le differenze rispetto al mio attuale amplificatore, vale a dire l'RX A2070 della Yamaha, sono evidenti a favore di questo Cinema 40. Le differenze sono evidenti soprattutto nel dettaglio e sul livello delle sfumature percepibili. In particolare i dialoghi sono molto più intellegibili e le voci più realistiche e naturali. La potenza che questo Cinema 40 mette a disposizione, al netto delle precisazioni che abbiamo fatto prima quando abbiamo parlato delle sue caratteristiche tecniche, sono più che sufficienti per garantire la birra necessaria anche ad alto volume ai nove canali che ho collegato in questa stanza. Concentriamoci appunto, parlando di canali, sul mondo surround. Le codifiche Dolby e DTS tradizionali, le possiamo chiamare, sono gestite perfettamente su tutti i sette canali. Questi sette canali sono sfruttati alla perfezione. Ogni suono è perfettamente collocato nell'ambiente circostante. E questa caratteristica ovviamente emerge ancora di più se utilizziamo contenuti audio ad oggetti. Dolby Atmos in primis. È incredibile il coinvolgimento che questa codifica è in grado di offrire. Durante i primi ascolti mi veniva infatti istintiva la tentazione di girarmi nella direzione del suono. E la direzione del suono coincideva perfettamente con la direzione che le immagini sullo schermo lasciavano intuire. Se il protagonista del nostro film guardava in quella direzione la provenienza di un meteorite, state pur certi che il suono proveniva da quella direzione. Quindi coinvolgimento assoluto. Ritorno per un attimo, ahimè, alla premessa iniziale. Le mie impressioni, quelle che vi ho esposto fino adesso, sono legate strettamente alla riproduzione di contenuti degni dal punto di vista sonoro. Purtroppo, e mio malgrado è così, i contenuti sonori degni oggi disponibili sono solo e soltanto su supporto fisico Blu-ray. Purtroppo è così. Il mondo dello streaming è legato solo e soltanto ad audio compresso, nella maggior parte dei casi molto compresso. Si possono ascoltare contenuti Dolby Atmos per la carità, ma sono soltanto lo scheletro di ciò che può offrire un contenuto master audio a oggetti contenuti in un Blu-ray 4K. Speriamo che questa situazione possa cambiare in futuro, ma ne dubito fortemente. Infatti, ciò che il mercato propone è lo specchio di ciò che il pubblico chiede. E cosa chiede il 99,9% del pubblico connesso a Netflix? Cosa possiede il 99,9% delle persone che hanno un abbonamento a Netflix? Un televisore megagalattico connesso, se va bene, a una sunbar. E il se va bene è ironico. Ecco che quindi tutti o quasi i contenuti della piattaforma di streaming sono in Dolby Vision, ma hanno, purtroppo, la qualità audio paragonabile o quasi a quella di una conversazione telefonica. Questo è perché ce lo meritiamo, purtroppo. E chi fa parte di quello 0,1% come me? Acquista Blu-ray 4K sperando che non spariscono dal mercato. Perdonatemi questo piccolo sfogo, anche se spero che il pubblico di Audiofilando lo possa capire e condividere. Torniamo a noi. Il software con cui utilizzare il Cinema 40 è facile e intuitivo. Anche gli on-screen menu sono molto facili da utilizzare. Non sto parlando solo della procedura di setup che abbiamo visto prima essere favolosa, ma parlo nel normale utilizzo. Per concludere, sentiamo cosa abbia da dirci Elena su questo prodotto molto curato dal punto di vista estetico. Sinto amplificatore questa volta per la Marans? Sì, è vero, è un sinto amplificatore, ma dal punto di vista estetico ci ricorda moltissimo amplificatori che abbiamo già visto sul canale Audiofilando. Quindi la Marans ha scelto questa linea estetica che ha portato sia nella musica che nel cinema, nell'on cinema, e quindi la ritroviamo identica anche in questo prodotto. Molto molto bello, secondo me i due punti di forza di questa nuova linea della Marans sono queste due piastre che contraddistinguono il fronte, quindi la piastra posteriore un po' concava con questa zigrinatura, questa sembra quasi bucciardata, molto molto bella. E la piastra anteriore invece è molto più semplice, molto più liscia. Secondo plus, secondo me, estetico di questa nuova linea Marans è il colore. Il colore è veramente molto bello, vi assicuro che in foto, in video non rende. È un bellissimo silver molto particolare, curatissimo, che tra l'altro è caratterizzato appunto da questo aspetto un po' cangiante, dato proprio dalla texture di queste piastre. Nello specifico è chiaro che stiamo parlando di dimensioni piuttosto importanti, i sintamplificatori sono sempre belli cicciotti, diciamo così, belle le griglie laterali e superiori che vi faccio notare essere una lamiera unica. Quindi qui non abbiamo nessuna interruzione, la griglia ovviamente ha dei microfori per permettere il passaggio e la dissipazione del calore. Viti a vista sul fianco con questo atteggiamento un po' aggressivo, diciamo così, in contrasto con l'eleganza del fronte. Molto bello lo schermo centrale rotondo che praticamente richiama i due manopoloni laterali, quindi rendendo ovviamente giustizia questa estrema simmetria del prodotto. Infatti tra l'altro di qua abbiamo il tasto di accensione e di qua abbiamo un'uscita. Molto bella anche l'idea di dotarlo di questo sportellino che si apre, come vedete, a rallentatore, quindi basta dare il là e poi lui si apre in maniera molto soft, che nasconde praticamente alla vista tutti quelli che sono i tastini, un altro display e le diverse funzioni del sintamplificatore. Questo lo rende molto bello perché ovviamente quando lo troviamo chiuso racchiude un po' l'eleganza di questo prodotto che rimane molto più pulito, nascondendo alla vista tutti quei tasti che invece servono in un sintamplificatore. Bellissime, le abbiamo già citate in altri prodotti della Marans con la stessa estetica, le luci LED che ci sono qua lateralmente tra una piastra e l'altra, questa tipologia di luce è quella che ci dà una nota così di grande atmosfera quando il sintamplificatore è acceso, perché chiaramente illumina questa parte con questa texture molto particolare rendendolo proprio un oggetto quasi di design. Oltre alla finitura che vediamo qui, quindi questo bellissimo silver, abbiamo anche a disposizione il classicissimo nero. Secondo me, forse ve lo avevo già detto in altre occasioni, per questa tipologia di prodotto secondo me il silver è la morte sua, come dire. Il nero molto bello, chiaramente viene proposto per andare incontro alle esigenze cromatiche più diffuse, e quindi chiaramente per chi non vuole avere un unico pezzo con un colore diverso nel proprio salotto, ma preferisce avere tutti i componenti neri, ovviamente la Marans ci accontenta. Ma secondo me, dal punto di vista estetico, questo colore rende molto di più, perché fa venire fuori proprio tutte le caratteristiche estetiche di questi componenti. Belli, l'avevo già detto, molto molto eleganti, la Marans si contraddistingue sempre sul mercato per questo aspetto. Ok, veniamo per concludere alla sua possibile collocazione all'interno del mercato home theater, vale a dire al possibile acquirente che potrebbe rivolgersi al cinema 40 per il proprio impianto multicanale. Si tratta, come abbiamo visto, del top di gamma della nuova linea dei prodotti della casa giapponese, e si attesta su un valore di mercato di 2.800 euro. Navigando su internet l'ho trovato anche a prezzi decisamente inferiori, senza impegnarmi troppo anche al di sotto delle 2.400 euro. Detto questo, rimane un prodotto di fascia alta, destinato a impianti home theater di medio-alto livello. C'è da considerare che lo step successivo sarebbe, a mio modo di vedere, quello di componenti separati, quindi con un processore audio-video collegato a finali di potenza. Quindi lo step legato a installazioni top dal punto di vista dell'home cinema. L'utente ideale è quindi quello che vorrà grandi prestazioni dal proprio impianto domestico, e con questo componente le avrà. Ad esempio, il mio impianto a 9 canali, tutto basato sulla linea Sonus Faber Sonetto, mi ha regalato grandi emozioni nel, per fortuna, lungo tempo in cui l'ho avuto qui a disposizione. Quindi, se avete un impianto completo a 7 o 9 diffusori, direi che questo prodotto calza a pennello. Se invece possedete un impianto classico a 5 canali, o anche a più canali, ma di dimensioni contenute, quindi meno esoso dal punto di vista della potenza, direi che potrete orientarvi molto più agevolmente, direi e senza timore di sbagliare, sui loro fratellini minori, vale a dire il cinema 60 e 70. Non ho avuto, purtroppo, come detto, la possibilità di provare il software Dirac, ma già il sistema Odyssey vi permette grandi capacità di adattamento al vostro ambiente d'ascolto. La differenza tra la risposta flat e quella corretta tramite il software automaticamente è evidente, e vi consente di gran lunga un maggior coinvolgimento. In generale, posso tranquillamente dire che si tratterà di uno di quei prodotti di cui sentirò la mancanza nel momento in cui lo dovrò restituire, e il momento è arrivato. Di contro, però, l'utilizzo di questo prodotto, che è superiore, come detto, a quello mio attuale installato in questa casa, mi ha fatto venire l'acquolina in bocca, anche se probabilmente questa acquolina mi porterà a spingermi verso componenti separati. Nel frattempo, ho avuto il piacere e la fortuna di godere dei vantaggi e dei benefici a lungo di questo Cinema 40. E voi? Cosa ne pensate invece di questa nuova serie cinema di Marans? Scrivetemi tutto qui sotto nei commenti. Li vorreste a casa vostra? Chiedo pareri e opinioni soprattutto a coloro che hanno già avuto modo di provare questi prodotti. Ricordate che l'esperienza di tutti, se condivisa in commenti costruttivi, mi raccomando, può essere di aiuto a tutti i membri della community. Per oggi direi che ho finito, quindi non mi resta che augurarvi buoni ascolti, buona visione e ciao!